Musica Sabato 21 e domenica 22 maggio nei Giardini Reali, le Proloco del territorio della città metropolitana di Torino saranno protagoniste dell'edizione 2016 della manifestazione Paesi in città, Proloco in festa. Le associazioni locali coordinate dal Comitato Provinciale dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia presenteranno la cultura, le tradizioni, il folklore, l'artigianato, i piatti e i prodotti tipici di paesi e città del territorio. Quest'anno è l'edizione del decennale perché Paesi in città nasceva proprio nel 2006 dopo le Olimpiadi Invernali e veniva proposta subito in Piazza Vittorio e poi nell'edizione 2010-2011 siamo passati qua ai Giardini Reali. Nel 2011 poi è cessata perché è stata, come dire, è cessata anche la provincia di Torino per essere incorporata in città metropolitana e quest'anno nel 2016 ritorna con città metropolitana. Sarà un'edizione anche particolare perché nelle altre edizioni normalmente eravamo nel periodo autunnale, il secondo weekend di ottobre. Arriviamo a maggio, visto che è una nuova edizione, anche per portare altri prodotti, altre particolarità anche stagionali. Ci saranno circa una trentina di Proloco con prodotti di stagione, ma direi anche proprio con piatti particolari della tradizione povera che le Proloco sanno ben realizzare. Grazie. 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 Grazie.